I laboratori, l'ostetricia soprattutto per Cittadella e Campo San Piero, l'area psichiatrica e l'assistenza sociale territoriale. Sono questi i quattro settori più a rischio dell'USL6 per la carenza di personale, insofferenza a causa di fisiologici turnover, maternità e blocco delle assunzioni. Il rischio è che vengano a mancare servizi essenziali. Questo il grido di allarme lanciato dalla funzione pubblica CGL che, dati alla mano, parla di 728 dipendenti in meno a tempo indeterminato, persi dal 2011 al 2021 dall'USL6 e Uganea. La Regione ha bloccato tutte le assunzioni per l'USL6 e Uganea, quindi non solo le assunzioni per l'extra turnover, cioè quei processi di adeguamento e ampliamento della dotazione organica e di innovazione, ma anche tutte le sostituzioni, dico tutte, le sostituzioni del personale che è andato in pensione. Quindi noi ci si stanno creando buchi in tutti i posti di lavoro, perché sapete che nel pubblico impiego il 50% è personale che ha già un'età avanzata. Per esempio sono ferme le graduatorie degli OS, dice il sindacato. Sono tantissimi quelli fermi che rischiano di vedere trascorrere i termini di validità del concorso. La carenza è così pesante che la CGL chiede come sarà possibile riprendere l'attività a settembre dopo la fine dell'estate. I servizi, a nostro avviso, rischiano di chiudere o comunque di sospendere se non si riattivino le assunzioni non solo del turnover, ma anche dell'extra turnover. Vi è un altro problema che riguarda i tassi stipendiali. In questi giorni se ne è parlato, lo rilanciamo. Regione Veneto deve aggiungere risorse ai fondi contrattuali delle aziende, in particolare di ULS6, di azienda ospedaliera università. Le difficoltà riguardano purtroppo tutta la sanità padovana. Per quanto riguarda le altre due aziende, IOV e azienda ospedaliera, è una situazione sulla quale l'area ospedaliera vive una condizione difficile sulle diagenze chirurgiche, quindi tutta l'area della chirurgia plastica, dell'Ottorino, ma anche l'area trapianti, che è eccellenza per l'Università di Padova e per l'azienda ospedaliera. Per quanto riguarda lo IOV, i servizi alla presa in carico del paziente per la somministrazione delle chemioterapie e per quanto riguarda sempre azienda ospedaliera, le sale operatorie e l'area anche dei servizi. Non ultimo il servizio trasporto malati.